Ma che noia è ogni giorno doversi confrontare con un mondo sempre più fatto di ipocrisia? Dall'ipocrisia a convenienza, quella dell'opinione a buon mercato, all'ipocrisia fatta di rapporti commerciali e quant'altro. Ancora oggi dobbiamo parlare di cose che personalmente mi infastiliscono. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 1 ottobre 2024. Colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare gli abbonati di Twitch di Live Bianconera che in un mese, che è stato abbastanza complicato, e ottobre lo sarà altrettanto, anche novembre, per via di queste maledette soste per la nazionale, ci hanno fatto comunque raggiungere il quorum di abbonamenti che è stato addirittura sorpassato di un'unità. Vi ringrazio ancora, a nome di mio e a nome di tutto lo staff che collabora con Live Bianconera. Ma non è di questo di cui oggi voglio parlarvi, quindi piccoli consigli e poi andiamo sugli argomenti. Quindi iscrivetevi al canale YouTube Live Bianconera, mi raccomando, lasciate un like e un commento, attivate la campanella delle notifiche, venite a trovarci anche su Twitch, facciamo le dirette a partire dalle 15.30. In più, Live Bianconera Channel su Telegram con notizie e informazioni dal mondo LB e dal mondo Juventus, mi raccomando. Oggi ci sarà la conferenza stampa di Tiago Motta in preparazione della partita contro Illipsia, prima trasferta europea, partita che tra l'altro secondo me darà molti temi allettanti perché affrontiamo un avversario secondo me molto forte che in casa ha il suo perché quindi devo dire non vedo l'ora di vedere questa partita che sarà domani, mercoledì e sarò molto curioso di vedere se ci sono dei passi avanti anche contro una squadra che ti lascia giocare ecco a pallone. Ne abbiamo affrontate tante, le squadre abbastanza chiuse e quindi per una volta affrontiamo una squadra che risponderà colpo su colpo a campo aperto. Non parlerò più purtroppo in questo piccolissimo spazio che voglio dare di campo perché voglio rimarcare una piccolissima cosa che sicuramente avrete notato nel corso della giornata di ieri, è uscito la notizia di vari arresti a Milano, tifosi dell'Inter e tifosi del Milan, ne abbiamo parlato ieri al caffè. Voglio dire in modo veramente brevissimo che sono non indignato nemmeno amareggiato perché sono ormai abituato alla grande, ripeto, ipocrisia del principale organo di informazione sportiva italiana che era, resta ancora la gazzetta dello sport. Ora, va bene, la gazzetta e l'FC internazionale hanno dei rapporti commerciali, fa parte del brand eccetera. Io non la leggo, la leggo sì ma per portare contenuti al caffè ma non sono un assiduo come dire lettore che ha un modo di leggere che sottostà ecco la firma eventuale di gazzetta o una lettura critica della della gazzetta di tutti i suoi editoriali, editorialisti eccetera 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 eccetera. Poi per portare contenuto all'interno delle dirette mi tocca leggere pure quello che non mi piace ovvero il Corriere dello Sport, tutto sport, la gazzetta e mi tocca farlo ma ci sta, fa parte del gioco. Ieri cercando un po' di vedere degli approfondimenti sulla questione Inter-Milan, vado sull'home page di gazzetta, ragazzi e prima c'è la partita del Milan e vabbè fa parte della cronaca sportiva riguardo il campo e va bene. Poi Sinner, poi consigli agli automobilisti, poi approfondimento sul cinema anche se la gazzetta è lo sport. Poi in basso, in basso, in basso, in basso, in basso, in zaghi due punti, la società mi ha detto di non parlare della questione extracampo. Quindi non c'è nessun approfondimento, non c'è nessun tipo di cronaca. Io voglio capire se questo è modo di fare il giornalismo corretto, che non vuol dire tra l'altro nel corso di un'indagine magari ancora a livello preliminare, né in mancanza di un processo, eccetera, non dico di emettere la sentenza, che sarebbe sbagliatissimo, ma almeno un resoconto, se uno oggi ha passato una giornata di lavoro e vuole l'informazione, che è successo? Perché si parla di questa cosa che è successa a Milano? Su gazzetta trova la dichiarazione filtrata, chiaramente, anche in modo giusto da parte di Simone Inzaghi, con un virgolettato e la società mi ha detto che non si ne parla di questa vicenda. Quindi, ma che è successo? Non si sa. Male, molto male, ma non era della gazzetta di cui volevo parlarvi in principio, volevo parlarvi di un dramma incredibile, ragazzi, del calcio, un'esultanza. Perché sapete, ce la prendiamo spesso e volentieri con i calciatori che, quando hanno questa cosa qui, il microfono, parlano in politichese. Ce la prendiamo con i giocatori che ormai sembrano dei rabò, nessuna reazione, nessuna questione istintiva, prevale anche sulla scelta delle squadre, eccetera. Poi, appena qualcuno fa un'esultanza, in uno stato o dall'altro anche vuoto, rispondendo alle critiche che gli erano arrivate nel corso delle ultime tre settimane, e ragazzi, crolla il mondo, crolla il mondo, soprattutto crolla il mondo in una redazione, quella di Sky Sport, in cui quest'anno evidentemente non siamo simpatici a Sky, o almeno ad una trasmissione del Sky, che è il club, condotto da Fabio Caresse in modo brillante, tra cui c'è anche Paolo Di Canio, opinionista di punta. Io vi rimando alla lettura, chiaramente c'è la clip, che però non posso ovviamente mostrarvi qui nell'editoriale, ma leggo ciò che ha detto Paolo Di Canio sull'esultanza di Vlaovic, dopo il gol del 2-0. Vedete un po' qui. Ringrazio anzitutto un account Twitter fantastico, che è Air Club Ritorno, che solitamente ci dà tante perle. Fare, lo dice in due passi, fare il gesto polemico dopo il gol non ha senso, è normale, se non segni per tre partite le critiche le devi prendere. E fin qui ci sta, va bene. Fa parte un po' della retorica da talk sportivo, ma è giusto che le critiche le devi prendere. Certo, tutto per me è criticabile. Per me è criticabile tutto, tutto è criticabile. Ma quello che aggiunge Di Canio è altro. Questo era il pensiero di Caressa, adesso leggiamo Di Canio. L'esultanza polemica è da giocatori piccoli, non da Juve. Che vuol dire giocatori piccoli? Cioè vuoi giudicare l'essere umano, il calciatore non è valido. Che vuol dire giocatore piccolo? Vlaovic in questo momento è tra l'altro anche il capo camioneta della Serie A. Assieme anche ad altri calciatori altrettanto bravi, ma sarebbe ancora a quota 4 gol il capo camioneta della Serie A. Giocatore piccolo non mi sembra, però va bene, andiamo avanti. Non da Juve. Questo è un suo giudizio personale, che io non condivido. È da piccoli giocatori, continua rincarare la dose e soffrire la pressione così. Quell'atteggiamento non è da grande giocatore, continua. Hai segnato contro il Genoa la squadra più disastrata del campionato. Perché? Perché il Genoa è la squadra più disastrata del campionato? A Genova l'Inter ci ha pareggiato, la Roma ci ha pareggiato, l'anno scorso l'Inter campione in Italia ci ha pareggiato, la Juventus ci ha pareggiato. Perché è la squadra più disastrata del campionato? Perché sminuire, tra l'altro un bellissimo, almeno il secondo gol, bellissimo gol, palla bellissima di Copminers, gol con coordinazione di attaccante vero. Perché è la squadra più disastrata del campionato? Ammarassi, vabbè a porte chiuse, ma se gioca undici contro undici mi pare di capire, no? Va bene, a porte chiuse. Continua di Cano. Ora io non voglio fare paragoni, se qualcuno nei commenti farà il paragone villane, vi mando già a fare in culo, ve lo dico. Mi torna alla mente un gol segnato a porte chiuse, da parte, qui immagino saremo tutti d'accordo, da uno dei primi cinque giocatori più forti del gioco del calcio di sempre. Con la mente della Juventus. Cristiano Ronaldo si becca cinque, sei giorni di critica dopo l'ottavo di finale che la Juventus giocò contro il Porto. Persa, perso il passaggio, ecco la partita l'abbiamo vinta. Perso il passaggio. Anche per qualche errore, fece una brutta partita, può capitare anche ai migliori di sbagliare. Ronaldo fu criticato amaramente per due, tre, quattro, cinque giorni, ok? La partita successiva la Juventus gioca a Cagliari. Stadio a porte chiuse perché allora c'era la pandemia purtroppo. Ronaldo fa un gol importante dopo averne sbagliati tanti tra l'altro, proprio in quella partita lì, ma sfoga la sua rabbia segnando il gol che delinea la vittoria della Juventus, nemmeno il gol vittoria, il gol principale, il gol che sblocca, ecco era uno dei tanti, gol che ci furono in quella giornata. Ripeto, senza sminuire Ronaldo. Ronaldo è uno dei migliori cinque trovatori del mondo, parlano i numeri, le statistiche, non voglio paragonare Ronaldo a Blaovic. Paragono l'episodio in quanto poi Ronaldo esultò in modo polemico di fronte ad una telecamera a stadio vuoto. E quindi ha fatto qualcosa. Se lui in quel momento, Ronaldo in quel caso è Blaovic in questo, ha un sentimento totalmente umano nel dire, oh, ma avete rotto il cazzo per tanti giorni, ma guardate che cosa ho fatto. Ma che male c'è? Che male c'è bloccare l'emozione umana di un calciatore? Qualunque esso sia, qualunque squadra, in qualunque squadra lui giochi, in momento, eccetera. Ma che ne sapete voi dell'umoralità di una persona? Perché giocatore piccolo? Il giocatore piccolo magari lo è piccolo se sbaglia tantissimi gol, se non segna mai, se sbaglia tutto giocando con la squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se uno fa un grande gol e dopo una settimana in cui si parla di rinnovo di Blaovic, Blaovic non è un grande giocatore, Blaovic fa schifo, eccetera. Fa un grande gol e dà anche, come dire, uno slancio in più all'intera squadra, perché Blaovic nei gol che fa almeno quest'anno rappresenta un bottino importante per tutta la squadra, dato che la manovra offensiva alla fine si conclude con lui che è il finalizzatore, l'utilizzatore finale. Ma perché non può rispondere con un'esultanza che non è offensiva, è un state chiacchierando, chiacchierate, voi parlate e io faccio i gol. Ma siamo veramente messi a questo punto? Io spero che nei commenti ci sia, ripeto, la critica magari si può fare a Blaovic dal punto di vista tecnico, anche se anche lì avrete le rimostranze da fare, no? Dato che per giorni abbiamo parlato di Blaovic in crisi, quando in realtà l'intera manovra offensiva della Juventus nelle partite che ha pareggiato per 0-0, sono stati tre pareggi di fila, era in crisi, non riusciva a tirare in porta. Ma vabbè, accettiamo, ma non sull'uomo piccolo, il giocatore piccolo, eccetera, eccetera, eccetera. E va bene, caro Di Canio, e va bene, cara Sky, caro club, che dovete fare ascolti, e non c'erano polemiche sulla Juventus, perché ha vinto 3-0, non c'era da mostrare numeri tendenziosi sul confronto Allegri-Tiago, e quindi di che parliamo? Ah, ma immagino la redazione, sulla Juve che ci abbiamo, sulla Juve? E va bene, c'avamo niente, ha vinto 3-0, ma era detto a lui, parliamo un po' di Blaovic, rompiamo un po' i coglioni. Che tristezza, ragazzi, che tristezza, della Gazzetta e di Sky, e pensate che questi due sono due tra i principali organi di informazione su cui noi basiamo la nostra conoscenza in materia di calcio, di sport, eccetera, 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 eccetera. Grande tristezza, tristezza, scusate. Ma purtroppo questo non è un mondo giusto, cerchiamo di renderlo migliore anche a partire dalle 15.30, almeno noi al caffè di LB, ci vediamo più tardi, ragazzi, un abbraccio, ancora un grande abbraccio, un bacio, ciao.